Grazie per l'invito e la parte che tocca a me che mi è stata ritagliata, che ho condiviso con questo giovane specializzando, bravissimo, della neurologia di Genova e che però è completamente mia responsabilità, risponde a un problema che alcuni di voi per fortuna affrontano quotidianamente, cioè facciamo un po' una valutazione neuropsicologica se c'è il neuropsicologo, che poi è una figura ancora un pochino da definire, oppure è un sogno di quei gruppi che non hanno un neuropsicologo e che vorrebbero averlo. Io farò una presentazione di basso profilo cercando di capire un attimo quali sono i trucchi della valutazione neuropsicologica che nasce da un'esperienza di un certo numero di test valutati e di laboratori gestiti. Quindi per valutazione neuropsicologica intendiamo una misura di capacità cognitive di un soggetto in un determinato momento in un certo contesto, cioè produciamo dei numeri, ma voi sapete che la valutazione neuropsicologica è tale e completa solo se ha una valutazione qualitativa di questi numeri. Per fare una valutazione neuropsicologica è indispensabile muoversi un attimo, anzi pure in termini grossolani, tra un approccio psicometrico vuol dire quantificare degli eventi cognitivi e questo richiede dei dati normativi, approcciare paziente con un approccio di tipo cognitivo, c'è tutto un filone di neuropsicologia cognitiva che ha molto prodotto non tanto forse sul piano clinico ma sulla teoria della mente e su alcuni aspetti di composizione della memoria per esempio e poi un aspetto detto malamente di tipo ecologico, funzionale che valuta il contesto esistenziale del paziente, la disabilità, le strategie di compenso, la capacità residua. La neuropsicologia ha recuperato questo aspetto solo in tempi recenti, dedicandosi più al bicchiere mezzo vuoto che al bicchiere mezzo pieno. La cognitività è concettualizzabile in un modello in cui si distinguono diverse funzioni o domini almeno in parte indipendenti, esistono strumenti psicometrici adeguati a sondare le singole funzioni e la performance alle singole valutazioni dipende da fattori molteplici e tra questi sicuramente la motivazione. Ora scusate se dico delle cose banali ma quando si chiede un test neuropsicologico bisognerebbe avere almeno un grossolano criterio generale di impostazione delle funzioni cognitive, insomma una teoria di funzionamento. Questa è una teoria un po' così da focacceria ma diciamo che ci sono delle funzioni distribuite e delle funzioni localizzate, voi potete scegliere quali testare. Tra quelle distribuite c'è certamente l'attenzione, in parte la memoria e in parte le funzioni cosiddette intellettuali superiori che hanno delle loro basi neurali, ci sono poi delle funzioni localizzate, dominanti, non dominanti, alcune cose per esempio vengono trascurate, le componenti prosodiche del linguaggio sono di competenza soprattutto all'emisfero destro, hanno un ruolo decisivo nella relazione sociale del soggetto e non vengono di solito quantificate dall'esame neuropsicologico. Che i test neuropsicologici funzionino si sa da moltissimo tempo, queste sono evidenze che vengono collassate diciamo così in una meta analisi di oltre 125 studi che dimostrano che i test neuropsicologici in qualche modo sono validi, dico io sono validi se vengono usati correttamente. Questa è la prima trappola dei test neuropsicologici, vedete questo interessante lavoro di Perigattamo, vi ho tolto le standard deviation per comodità, sono i risultati di un test di apprendimento supraspanno, il test di Busche Fuld, è un test molto complicato con qualche tratto di sadismo come viene spesso in alcuni test neuropsicologici evidenziato, ma concentratevi su queste colonne, queste sono le colonne dell'apprendimento di una lista di parola a lungo termine, vedete che qui ci troviamo di fronte a soggetti che sono sani, non hanno disturbi cognitivi e le risposte in grigio sono quelle prive di incentivo, quelle in grigio più scuro sono quelle con uno degli incentivi, uno dei due o tre incentivi che funzionano negli esseri umani, due, e cioè i soldi e vedete che la prestazione quasi raddoppia. Immaginate di trasferire questi dati in un mycognity imperme per esempio, in un soggetto di 80 anni, di solito è un maschio portato alla moglie, la memoria non funziona più, che è lì alle 8 di mattina, che ha preso magari l'ipnotico la sera prima e voi avete chiesto il test neuropsicologico per fare la diagnosi di demenza, una delle possibilità che aggiungerei a quelle opportunamente e così ben ricordate dal professor Cartagerone forse è un miglioramento anche della diagnosi che ha creato dei termini più restrittivi e che ha fatto ridurre le demenze. Alla base della motivazione sono un po' sintetico e rigido, ma c'è un fascio, il cosiddetto fascio del premio o fascio mesolimbico che vedete che è un fascio profondo, è un fascio che funziona a dopamina ed è poco influenzabile da ragionamenti effettuati sul momento, la motivazione è una cosa che nasce dentro di noi. Alcune motivazioni fanno riferimento al bisogno, altre sono corticolizzate a livello del 5 all'alteriore delle aree corticali frontali, strettamente collegate alla amigdala che è quella che fa un po' da garante del tempo passato, della memoria delle esperienze precedenti. Questo per dire che è un fascio profondo che nasce dall'area tegmentale ventrale, che il neuropsicologo conosce ma che deve conoscere anche il clinico. Quindi noi la motivazione l'abbiamo come un ruolo significativo. Un altro aspetto della motivazione è quello del filtro delle informazioni, in cui i nuclei della base giocano un ruolo assolutamente decisivo. Adesso io non voglio entrare nei dettagli, ma anche questo è un aspetto che nella valutazione neuropsicologico standard è poco valutato. Fatta premessa che bisogna verificare la motivazione del paziente, questa è la valutazione neuropsicologica, c'è un'analisi della domanda, un'anamnesi neuropsicologica, un'intervista, un'esplorazione testologica, quindi il test è solo una parte della valutazione neuropsicologica e poi la diagnosi finale che è il composto di tutto questo. Per analisi della domanda dico solo che il setting è importante, cioè è un contesto forense in cui chiediamo la valutazione neuropsicologica di tipo scolastico o di tipo clinico e l'altra cosa di un certo interesse, che sembra banale ma non lo è, è che bisogna creare un clima di fiducia e non l'idea che siamo lì per esaminare, per far superare un esame al paziente. Raccolta dei dati anagrafici e delle informazioni cliniche è molto importante e quindi si formula una domanda che si accompagna anche a un breve esame di tipo psichico per valutare la consapevolezza del paziente di fronte ai deficit cognitivi. Al termine di questa fase iniziale il clinico dovrebbe formulare delle ipotesi predimidali che dovrebbero essere valutate con l'esplorazione testologica, quindi vedete che non è fagli un po' un mini mental o fagli test frontali. C'è un ragionamento clinico dietro che richiede, secondo me, una curva di apprendimento. La valutazione neuropsicologica inizia con l'idea di testare il livello di arousal, di testare l'attenzione, il linguaggio alla parola, lo stato mentale e i test specifici. I test specifici quindi arrivano solo dopo un processo piuttosto articolato. Quando è vigile il paziente si sa ma conviene ricordarlo, è attento alle parole dell'esaminatore, risponde, non è distratto dall'ambiente e mantiene l'argomento comunicativo. Se il paziente non è così è difficile che la maggioranza dei test neuropsicologici produca dei risultati accettabili. L'attenzione si può testare in tanti modi. Quando usate dei test, usate dei test che agiscono particolarmente su una funzione ma ne comprendono anche delle altre. Questo è un test banale di cancellazione delle A che testa l'attenzione in maniera piuttosto semplice. Il linguaggio non c'è bisogno del logopedista, lo potete testare a letto del paziente. Ecco, due commenti sul Minimental, che credo che sia se Falstein avesse un H-index calcolabile probabilmente sarebbe quello che ha l'index più alto di tutti. È un test che ha sicuramente dei vantaggi, in parte tarato, ma ci sono delle particolarità. Per esempio, se io chiedessi qua chi dà l'allerta sulle tre parole quando esegue il Minimental, so che alcune mani si alzerebbero e altre… l'allerta vuol dire mi raccomando, ricordatele che poi te le chiedo, perché ancora la formulazione e l'utilizzo del Minimental è variabile. Ma se entriamo nei dettagli, è sensibile ai disturbi del linguaggio il Minimental, molto. Un afasico che ha solo problemi di afasia fa un Minimental piatto, comunque produce poco. È molto sensibile alla scolarità dell'età ed è pochissimo sensibile ai test frontali e in particolare a quelli dell'emisfero non dominante. Un paziente che ha una lesione significativa, per esempio per il suo recupero dal punto di vista funzionale, frontale e destra potrebbe avere un Minimental praticamente quasi normale. Ha il vantaggio che è rapido, che è tarato e che è di facile esecuzione. Ma per farvi vedere come funziona il neuropsicologo, direi che per esempio, guardate la… cerco di estremizzare ma per darvi l'idea, per esempio la coppia del modello. Guardate, tre pazienti che si comportano in maniera diversa. Questo è un fenomeno perseverativo che è indice di una lesione di tipo frontale. Guardate queste due coppie. Allora, la coppia, diciamo così, attivando l'apprendimento tende a migliorare. Questo significa che il paziente ha gli engrammi che sono conservati a livello parietale e che ha un deficit di recupero e di controllo delle funzioni e quindi orienta per un paziente con delle caratteristiche frontali. Questo invece sarà un paziente di tipo parietale. Poi ci potete fare dei giochetti, se volete, dei giochetti anche di rete. Questo è un lavoro sulla struttura fattoriale del Minimental che è stato prodotto da una buona parte delle uva a Ligure qualche anno fa. Quando avete fatto tutto questo potete aggiungere i test specifici, cioè con delle domande precise e specifiche a sfondo neuropsicologico. Adesso io non voglio entrare in dettaglio sulle singole valutazioni, ma insomma i test frontali, i test parietali e così via di seguito. I test per il lobo parietale, li vedete qua. Cerco di accelerare un attimo. Guardate per esempio questo paziente, questo non è un test standardizzato, ma è una coppia che funziona quando è una coppia biplanare. Se voi chiedete al paziente di utilizzare la terza dimensione, il paziente non riesce a farlo. Questo invece è un test classico, la figura di Ray che segue praticamente l'indimentimento, progressivo deterioramento cognitivo di un paziente tipo Alzheimer. Vedete qua che la distruzione della figura è praticamente completa. Se poi entrate in dettaglio, la memoria prevede dei test a step diversi che vanno dalla definizione prima di tutto degli stadi della memoria. Vedete che il digit span si colloca per esempio al terzo stadio della memoria a breve termine of working memory, mentre la lista di parole a figura di Ray eccetera leggono il quarto stadio, mentre la memoria a lunghissimo termine è qualcosa di più complesso, ancora poco indagabile sul piano neuropsicologico. Quando si chiedono i test della memoria, bisogna ricordare che la memoria ha almeno sette elementi di disfunzionamento fisiologico. L'alabilità, la distrazione, quindi la distinzione tra attenzione e memoria, i fenomeni di blocco, l'errata attribuzione, déjà vu, déjà vécu, la suggestionabilità, pensate ai fallimenti dei testimoni oculari, il fenomeno di distorsione, qualunque attività amnesica è un fenomeno ricostruttivo e poi, ma non interessa a noi questa sede, i fenomeni di persistenza della memoria. E ancora più interessante, se volete, è la distinzione, la dissociazione, adesso ho saltato rapidamente una diapositiva, ma ci sono degli aspetti di conservazione di momenti emotivi della memoria che continuano dopo la traccia amnesica in paziente con grave demenza. Questo è un lavoro recuperato da PNAS, ma in realtà il primo a avere questa intuizione è stato Clapared nel 1800, che ha dimostrato su un caso clinico che la dissociazione era possibile. E allora, quando voi chiederete un test neuropsicologica, sapete che praticamente le aree testate sono queste e per queste ci sono delle funzioni misurate che si traducono in test quantificabili e quindi in numeri. La diagnosi neuropsicologica consiste quindi nella descrizione dei punti di forza e dei domini cognitivi dello stato cognitivo del paziente, include elementi raccolti non solo nella fase di esplorazione testologica, ma nell'analisi della domanda, nell'analisi neuropsicologica e dovrebbe includere una valutazione sulle ricadute ecologiche dei test osservati. Adesso chiudo qui con questi ultimi dati che riguardano un test che stiamo mettendo in pista, che stiamo cercando di valorizzare. Diciamo che abbiamo preso le ADL e le IAD, le verrà racconto sinteticamente, e che cosa abbiamo fatto? Un test di osservazione. In realtà chi ha letto il lavoro originario di Katz dall'inizio degli anni 60 sulle ADL e le IAD non erano utilizzate come le usiamo noi, anamnesticamente addirittura col paziente oppure col familiare, si lega le stringhe, che cosa fa, utilizza l'autobus eccetera. Erano test osservazionali, allora abbiamo ricreato un ambiente simile e una serie di compiti che generano delle cose di un certo interesse. Il punteggio ecologico massimo è 14. Guardate che qui la curva generale di rapporto con i test cognitivi, il minimental funziona, però ci sono dei cluster di pazienti che presentano un certo interesse, perché per il minimental questo gruppo di pazienti è tra 18 e 20, correggetelo come volete, ma è un paziente con un deterioramento cognitivo a seconda della scolarità dell'età di grado medio-medio grave. Guardate la prestazione al test ecologico, la prestazione al test ecologico di questi pazienti è una prestazione ottima, sono pazienti che per capirci non hanno diritto all'accompagnamento. Rovesciate le cose, guardate questo gruppo di pazienti che all'ADL viene definito come un gruppo di pazienti performanti, il punteggio totale al nostro scolo è 50 su 50, questi non arrivano al 50%, cioè sono pazienti potenzialmente non autonomi. È chiaro che i test neuropsicologici non sono in contraddizione con la valutazione funzionale, ma sono due aspetti che devono essere integrati e che devono essere valorizzati sempre nel contesto della stessa valutazione. Per concludere, l'utilità della neuropsicologia oggi non è più quella della diagnosi di sede classica, ma è la corretta diagnosi di natura, avete visto lo schema che ci ha presentato il professor Cattagirone molto chiaro con lo schema di adico da Snowdon molto interessante, dove il supplemento alla valutazione neuropsicologica è di estremo interesse e la neuropsicologia è anche guida per la necessaria riabilitazione cognitiva e potenzialmente per la farmacoterapia. Vi ringrazio dell'attenzione.